Il commissario Montalbano e l'isola dei famosi Tra i programmi tv di oggi in prima serata anche il film Red 2 su Italia 1, l'ultimo lupo su Rai 3, Hawaii il Fide, Zero con una serie di episodi, il codice da Vinci su TV 8 e ancora stasera in tv 12 marzo 2018 Atlantide, Aldo Moro storia di un delitto e l'uomo bicentenario su 9. Di seguito le anticipazioni della guida tv zapping sui programmi in onda stasera in tv. Su Rai 1 c'è il commissario Montalbano come voleva la prassi. In replica alle 21,20 la ficzione di Alberto Sironi del 2016 con Luca Zingaretti, Peppino Mazzotta, Cesare Bocci, Angelo Russo, consigliato sì, su Rai 2 c'è Hawaii il Fide, Zero, in prime time stasera in tv gli episodi ossessioni, il secondo emendamento, tradizioni di famiglia, consigliato sì, su Rai 3 c'è l'ultimo lupo. Alle 21,15 il film del 2015 diretto da Yanni Acque Zannau del 2015, con Feng Xiaofeng, Sean Diou consigliato no. Su Canale 5 c'è l'Isola dei Famosi. Alle 21,25 l'ottava puntata del reality show dei Deep condotto da Alessia Marcuzzi con Mara Benier, Daniele Bossari e Stefano De Martino, leggi qui le anticipazioni della puntata di stasera, consigliato sì, su Italia 1 c'è e 2. E' il film diretto da Adrian Parisot del 2013, con Bruce Willis, John Malkovic, Elen Miren, Mary Louise Parker, consigliato sì, su Rete 4 c'è chi trova un amico trova un tesoro. Alle 21,20 il film del 1081 per la regia di Sergio Corbucci con Wood Spencer, Terence Hill, John Fuyoka, Louise Bennett consigliato no. Su L7 c'è Atlantide Aldo Moro S. Su L7 c'è Atlantide Aldo Moro S.